ciao a tutti bentornati sul mio canale benvenuti in questo nuovo video in questi giorni molti di voi mi hanno fatto richiesta di sapere a che punto siamo con gli studi del progetto hour 2 del dottor sam parnia allora qualcuno mi ha mandato anche il link del blog che questo qua poi dove vengono fatti gli aggiornamenti eccetera chi mi ha mandato anche le traduzioni ma in realtà i risultati sono abbastanza chiari ovviamente non abbiamo una strumentalità scientifica che ci permette di andare troppo oltre a quelle che sono le evidenze mediche o i primi tentativi di capire quello che succede dopo la morte fisica e quindi chi poi viene rianimato e riportato in vita con strumentazione scientifica che altrimenti in natura sarebbe morto e non sarebbe più tornato in vita e vediamo però che oggi c'è un riscontro finalmente di una certa importanza e rilevanza cioè abbiamo non più solo le obe uditive come abbiamo già ottenuto in passato ma abbiamo finalmente un obe visiva e questo cambia ovviamente le carte in tavola e ovviamente qua riportiamo un po le prime impressioni dei dati grezzi che adesso andiamo a vedere ci sono anche risultati di persistenza di alcune onde cerebrali fino a 60 minuti oltre la morte questo potrebbe sconfessare l'ende no assolutamente perché sono onde bassissime alfa dovute alla rimanenza del tessuto cerebrale che sta morendo e quindi l'energia scaturita da alcune cellule ma che che continuano comunque a vivere ad esempio voi sapete che nei corpi nei cadaveri le persone morte per altre 24 48 ore crescono i peli della barba crescono i capelli crescono le unghie questo dovuto perché alcune cellule continuano comunque a sopravvivere con la rimanenza di ossigeno pregno nei tessuti quando invece il grosso della corteccia cerebrale e il cuore sicuramente dopo i primi minuti comincia a deteriorarsi molto velocemente tanto da non essere più recuperabili in effetti il progetto e war nasce proprio per capire se c'è la possibilità di rianimare le persone oltre i 5 10 minuti canonici senza che queste abbiano ovviamente subito troppi danni cerebrali o cardiaci da rimanere poi allo stato vegetativo e quindi con nessun valore la rianimazione ottenuta bene i risultati al momento sono questi come dicevo proprio per la mancanza oggettiva di strumentalità scientifica che possa dimostrare quello che succede poi oltre l'obe però abbiamo ottenuto un'obe visiva che invece smentisce che siano solo allucinazioni cerebrali ecco e che o dovute a medicinali o dovute al dmt o dovute altre cose a un lavoro onirico del cervello per salvaguardare dal dolore della morte ma l'obe visiva dimostra che la coscienza o l'anima chiamatela come volete della persona si proietta al momento della morte fisica al di fuori del corpo e vive un'esperienza vera e reale andiamo a vedere i dati ed eccoci qua siamo direttamente sul progetto a war sul suo blog per la precisione e vediamo nella ristrettezza dei 28 pazienti 11 28 pazienti hanno avuto memorie o percezioni durante il momento in cui erano morti clinicamente e questo già un buon risultato 3 hanno avuto esperienze simili al sogno simili a un sogno lucido 2 su 28 hanno avuto un'obe auditiva quindi hanno sentito nonostante essere clinicamente morti 1 su 28 ed ecco qua il caso eccezionale ha avuto un'obe visiva e l'obe visiva ovviamente è il bandolo della matassa perché ci va a indicare che non è l'assenza di ossigeno non è la persistenza in vita del cervello non è il dmt non sono altre sostanze stupefacenti o il cervello stesso che crea delle illusioni in prespicienza della morte ma è un'esperienza vera reale fisica se possiamo così definirla sebbene spirituali c'è la coscienza o l'anima chiamatela come volete viene proiettata fuori dal corpo ed ecco che la persona ha un'obe proprio out of body experience fuori dal corpo questa è veramente la cosa importante questo è un cambio di passo che la versione 2 del progetto e war risurrezione quindi risurrezione ci ha portato ovviamente è una cosa da prendere ancora in questa maniera con le pinze perché è un primo risultato molto importanti e vediamo che nel 47 per cento non c'era nessuna misurabilità di attività della corteccia cerebrale e però delle onde delta nel 22 per cento sono state registrate per 60 minuti delle tetta per nel 12 per cento per 60 minuti e delle alfa nel 6 per cento fino a 35 minuti questo non significa che il cervello sopravvive per così tanto tempo ma che alcune cellule emettono ancora onde elettromagnetiche come dicevo poc'anzi alcune cellule continuano a vivere anche in presenza di poco ossigeno o del residuale ossigeno tessutale quindi anche se lo studio è stato fatto indicato proprio per capire se possibile rianimare una persona dopo una certa dose di minuti che di solito sono tra i 5 i 10 minuti senza che questa persona abbia ingenti danni cerebrali o cardiaci in modo da poter rimanere poi invece allo stato vegetativo e quindi inficciando il fatto di essere stata rianimata perché quel punto lì non ha nessun valore molto molto importante vedete che c'è il link vi sto facendo vedere our far.co slash welcome slash blog lo vedete comunque nel video e potete in questo caso andare a vedervi i risultati man mano che vengono proposti nel blog e vengono ovviamente espressi in maniera semplice non in maniera più complessa come sul progetto stesso alla portata di tutti insomma spero che questo video vi sia piaciuto scrivetemi nei commenti qua sotto cosa ne pensate mettete like condividete il video su tutti i vostri social questo è un grande aiuto che potete dare per il canale iscrivetevi al canale solo il 20 per cento di voi è iscritto siete dei birichini iscrivetevi al canale che date un grande supporto al canale ci vediamo un prossimo video ciao a tutti da armando ciao